Sono Daniele Fiorelli, una guida alpina da Valmasino che collabora con l'azienda Zamberram per lo sviluppo degli scarponi già da alcuni anni. In mano ho l'ultimo prodotto, l'Igear Light GTX con BOA Fit System. È uno scarpone che rispetto al modello precedente è ancora più termico grazie al funzionamento del BOA che permette di allentare la tensione sulla parte bassa del piede quando non è necessario mantenere il piede estremamente fermo all'interno dello scarpone. La chiusura è molto semplice e veloce. La parte alta sulla tibia si chiude con un velcro mentre la parte bassa ci sono due layer che si sovrappongono e vengono chiusi dal BOA System che distribuisce uniformemente la pressione. Una volta fatta questa azione sovrappongo la ghetta e chiudo la cerniera e siamo pronti per la nostra escursione. Con il BOA System posizionato all'esterno l'utilizzatore può con un semplice gesto allentare la tensione oppure tensionarla anche con i guanti calzati e anche durante l'attività. Per esempio quest'inverno sulle cascate di ghiaccio era estremamente valido il sistema perché una volta conclusa la scalata del tiro su cascata, una volta arrivati in sosta con un semplice movimento si poteva allentare la tensione sulla parte bassa, soprattutto sulla parte bassa del piede. In questa calzatura montiamo la nostra nuova suole a penia con due zone differenziate di assorbimento degli uti con poliuretano a doppia densità. Inoltre abbiamo questi due inserti sulla parte anteriore e posteriore compatibili con tutti i sistemi ramponabili sul mercato, un sottopiede in carbonio con nido d'appe, una ghetta completa di una zip completamente waterproof. La protezione inoltre totale della calzatura durante l'utilizzo è garantita da un fascione che copre in 360 gradi tutta la calzatura e una delle calzature con queste caratteristiche più leggera attualmente sul mercato.